Spalle! I ragazzi! Squatta, squatta! Ma che io sono spalle! Ci troviamo nella splendida Siculiana Marina. Oggi faremo animazione in acqua, patrocinato dal comune di Siculiana, grazie mille anzi per l'opportunità di lavoro, grazie all'assessore e a tutta l'amministrazione. Faremo per tutti i fine settimana, tutti i weekend, sabato e la domenica, a partire da, abbiamo iniziato ieri, faremo oggi fino al 22 di agosto. Saranno delle lezioni prettamente in acqua, cioè saranno gratuite per tutti perché ci sarà lo sponsor ufficiale, il comune di Siculiana. Quindi vi aspettiamo numerosi in questa meravigliosa location. Fare sport significa essere buona in salute, divertirsi e stare in armonia con te stesso e con il suo corpo. Facciamo tutti i sport e divertiamoci per ogni cosa.